Sto fremendo, sto fremendo, sono in agitazione, sta partita mi ha allevato 10 anni di vita, 10, 15, facciamo 16, mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma mia. Comunque forse a molti, molti mi hanno chiesto di nuovo la spiegazione, mi hanno chiesto di nuovo perché l'Inter andava in Champions, me l'hanno chiesto da stanotte a questa mattina, perché non gli era chiaro. Allora, visto che il video non lo vedete, visto che il video non lo vedete, ve lo rimetto, ve lo rimetto. Non sarà semplice, poi con l'Atalanta, sto parlando della Lazio, non sarà semplice per la Lazio. Ovviamente l'Inter deve vincere, l'Inter deve vincere, io adesso faccio il professorone, così, cerco di analizzare. Sentite, sentite. L'Inter deve vincere, deve vincere, non è poi così scontato. Cosa? Ovviamente. Cosa? Se non vinci col Sassuolo. Ah, allora l'avevo detto, cioè, avevo detto anche che non era scontato che vincevamo col Sassuolo. Ah, e voi mi prendevate in giro, mi prendevate in giro perché avevo detto anche che non era così scontato che vincevamo col Sassuolo. Deficienti e vigliacchi che vi limitate solo a leggere il titolo e a commentare. Sparite dal mio canale. Non mi sto, non mi sto rivolgendo ai miei iscritti perché i miei iscritti mi conoscono bene, ma sto, mi sto rivolgendo a quei vigliacchi che si fermano lì ad analizzare il titolo. Sono, e poi intelligentemente, no, col senno del dopo, dopo che l'Inter perde col Sassuolo, vanno tutti a commentare. Non prima, dopo, giustamente, perché dopo è più facile fare, no, è più facile. Però se siete tanto intelligenti quanto vi credete, aspettate la partita con la Lazio, aspettate la partita col Crotone della Lazio, scusate. Aspettatela la partita, visto che siete così intelligenti voi, aspettatela. Oh mamma, mamma, mamma. Detto ciò, detto ciò, e lo puntualizzo ancora una volta, l'ho detto e lo dirò. L'Inter si giocherà la Champions, secondo me, ci andremo noi in Champions, secondo me. Ma non è detto, non è detto. E ho visto una Lazio veramente mardidotta, una Lazio onestamente inguardabile. Se la Lazio ha questi 11 titolari contro l'Inter, per me non vince. È anche vero che alla Lazio basta il pareggio, quindi, quindi, sono loro i favoriti, sono loro i favoriti. Però credo che quei Laziali così contenti e che sfottevano, credo che adesso iniziano a avere un po' paura, perché con l'Atalanta gli è andata di lusso. Oggi hanno risiclato un altro pareggio. Non lo so, non lo so. Se fossi in quelli dell'Atalanta, oppure fossi in quelli dell'Alazio, oppure non sarei così tranquillo. Come non lo sono io da interista, perché vedere l'Inter ieri che perde con il Sassuolo, nonostante i miei giocatori hanno dato il massimo, non è bello, non è di buon auspicio. Però, però, la Lazio ha dimostrato pure di non esserci granché in forma. Ovviamente, secondo me, dipenderà tantissimo dai recuperi di Luisa Alberto e di Immobile. Se Luisa Alberto, come da previsione, non ci sarà e neanche Immobile. Io non lo so perché, ma credo che non siamo così inferiore alla Lazio. E poi tutti a dire, no, ma la Lazio lo merita più dell'Inter, la Lazio lo merita... Ma se tu non vinci con l'Atalanta, se tu non vinci col Protone, se tu dovessi perdere con l'Inter all'ultima giornata, mi spiegate perché? Mi spiegate perché la Lazio lo meriterebbe di più? Mi spiegate perché? Perché la Lazio, quanto l'Inter, ha dimostrato di non avere i coglioni, ragazzi miei. Ha dimostrato di non averli. Perché una squadra con le palle vince, stop. Doveva vincere con l'Atalanta. Non c'è riuscita, ok, ma oggi col Protone devi vincere. Non c'è riuscita. Quindi, tanto la Lazio, quanto noi, quanto noi, non è che noi adesso... Non è che sto discolpando i miei giocatori, la mia squadra. Ma tanto la Lazio, quanto l'Inter, hanno dimostrato che non sono proprio all'altezza della situazione. Secondo me non è che andrà lì la più forte, andrà la meno peggio in Champions. E già questo non è di buon auspicio per l'Italia nell'anno prossimo. Già questo non è di buon auspicio. Ma questo, francamente, me ne strafotto perché a me interessa di andare in Champions da interista. Poi, se sono all'altezza, no, lo vedremo l'anno prossimo. Intanto andiamoci in Champions. E intanto vi dico anche che ci sarò a Roma. Andrò a Roma. Punto. Basta. Si va, si parte, si va a Roma a vedere la partita. Talmente che il gas adesso, la frenesia, basta, si, si, che me ne frega. Dai, facciamo così. Mamma mia, mamma mia oggi, mamma mia, mamma mia, mamma mia oggi, mamma mia. Almeno ce la giochiamo all'ultima giornata, ce la giochiamo all'ultima giornata. Non ho, non ho, non ho nulla da dire, non ho nulla altro da dire. Se non, cari vigliacchi, non vi limitate a leggere il suo commento. Non vi limitate a leggere il commento. Non vi limitate a leggere il titolo. Sto dicendo pure un sacco di cappellate, il nervoso, mamma mia, non lo so. Sì, alla fine mi capirò solo io in questo video, ma non importa, non importa. L'importante è che ce la giochiamo sino all'ultima giornata. Ce la giochiamo sino all'ultima giornata, cosa che negli altri anni non abbiamo fatto. Eppure io pensavo, no, sul salvataggio di De Vrij. Ho detto è finita. Nonostante stesse facendo ridere la Lazio, nonostante stesse perdendo 2-1 sul salvataggio di Le Vrij. Ho detto questo è il segnale che questi qua alla fine, alla fine, la portano a casa. Infatti è arrivato il gol di Milinkovic e Savic e ho detto, vabbè, non vi dico, non vi dico la mia faccia in quel momento. L'importante è il risultato finale. Chiedo scusa se sono stato poco garbato e poco pacato rispetto al solito, ma veramente ci stiamo giocando tutto e veramente sono volate parole e insulti pesanti negli ultimi miei video. E questo non mi piace, non mi piace, dovrei rispondere con tranquillità, ma non è facile, non è facile quando, quando da troppi anni ti stai giocando. Un ingresso in Champions che è importantissimo, che è fondamentale, più che importante, è fondamentale per la rinascita della nostra squadra. Ragazzi, ci becchiamo dopo per il video dell'Atalanta-Mila perché è una partita che voglio vedere, perché l'Atalanta mi piace tantissimo, c'è la lotta all'Europa League in corso, quindi vedrò anche quella partita e la commenterò. Intanto, forza Inter, amala, ancora siamo in corsa, ancora siamo in corsa, non mi sto galvanizzando nel senso che vinceremo, non facciamo proclami, vinceremo noi. Io l'ho detto che, secondo me, ce la possiamo fare, però, per come si era messa, fantastico, 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 amala! Se ancora non l'hai fatto, lascia un like alla mia pagina Facebook, iscriviti al canale YouTube e seguimi su Instagram.